E' dedicata a tutte le mani, una cosa alle mani! La serie è lei, paolo l'imperiente, anche lei dava la barba. Non vale più servire e che eva da un schabato. O se che mi piacciono, mi ha detto destruzione, e le danzò, vettrata. no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.